Enzo Greno, tutto pronto, mancano cinque giorni, è stata una lunga organizzazione ma ci siamo, la Savona Half Marathon è pronta a partire. Sì, ormai mancano pochi giorni, poche ore, la quinta edizione prenderà il via. Diciamo che abbiamo cercato da parte nostra di fare il meglio, di migliorare anche sotto alcuni aspetti quelle che erano state le quattro edizioni che peraltro avevano riscontrato ottimi favori da parte dei partecipanti e del pubblico e ci auguriamo che quest'anno sia un qualcosa ancora di meglio per mettere in evidenza il salto qualitativo che cerchiamo di anno in anno sempre di perfezionare. Tre corse, tre modalità diverse, la Family Run che coinvolgerà anche le famiglie. Sì, esattamente, l'Alf Marathon è la corsa per eccellenza a livello agonistico a tutti gli effetti. La 10 km a 10 è anche questa a livello agonistico ma fatta in maniera ovviamente un po' più tranquilla su una distanza decisamente diversa ed inferiore. La Family Run è quella che noi stiamo tra l'altro curando in maniera particolare perché è la passeggiata, non tanto la corsa ma quanto la passeggiata dedicata a Savona come città, ai savonesi, alle famiglie. Diciamo che per certi versi può essere quasi intesa come una manifestazione nella manifestazione che noi vogliamo fortemente incentivare anche come quasi scusarci per quel piccolo disagio che nelle prime ore della mattinata di domenica daremo con la 10 e con la 21.